Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutti sapientoni. Ma vi guardate attorno intanto? Cosa volete sapere di più? Rimane una che sta in un posto che non le appartiene, dove non dovrebbe stare. Vorrei solo ricordarvi che avete perso il contatto con la democrazia e non solo verso gli altri, ma verso voi stessi. Grazie a tutti.